Allora, questa è la ormai sveglia numero 6 e questo è un video diretto ai Mainstream Supporters, celebre gruppo ovunque distribuito in Italia, al quale voglio dire che devono decidersi allora, esiste la scrittura di ricerca o non esiste la scrittura di ricerca? Perché se la scrittura di ricerca non esiste, nessuno la legge, non importa, nessuno la va a cercare, in Francia i libri che pubblicano non vengono letti, negli Stati Uniti non ne parliamo e nel mondo, meno che mai, allora non ha un'egemonia o comunque non è così presente, non occupa la mente, gli interessi e dei critici e di tanti lettori comunque. Se invece esiste, forse è il caso che venga letta o forse è il caso che venga analizzata, studiata e succede poi questo, quindi allora esiste. Chi lo sa? Oggi sono stato all'Istituto Svizzero a parlare di Asamic Writing che non c'entra niente con la scrittura lineare, che non è testualità, che non è poesia, o meglio un tipo di testualità, forse qualcuno la chiamerebbe perfino poesia, non io, che va avanti per espressioni incomprensibili, lettere incomprensibili, ma oltre a questo ho portato anche a far vedere agli studenti e agli artisti che erano lì presenti, anche dei materiali leggibili di scrittura lineare, dei testi in prosa e dei testi in poesia, e questi materiali sono stati, a me sembra apprezzati, non credo che siano stati, come dire, fatti oggetto di minor interesse rispetto a quello che era poi l'oggetto principale, il centro, il focus dello studio, ossia la scrittura asemica, che ripeto, non c'entra con la scrittura lineare, o almeno non completamente, non nella accezione in cui Asemic Writing è venuta ad essere presente, soprattutto in Italia, grazie anche al sottoscritto, ma a tanti altri. Bene, quindi ecco, il mio messaggio è decidiamoci, decidetevi, cari mainstream supporters, decidete cosa volete effettivamente pensare, la scrittura di ricerca esiste, le sperimentazioni esistono, ok, provate a dare un'occhiata, ma a leggerli, non soltanto a dare un'occhiata, forse proprio a leggerli, perché magari dicono qualcosa che è diverso da quello di cui si parla quando ci sono tanti dibattiti in rete e fuori sulla scrittura di ricerca, magari i testi dicono altre cose rispetto a quelle che su quei testi vengono dette. Bene, se esiste. Se non esiste, facciano i ghibellini, facciano la loro arte, non ce ne interessiamo, non ce ne interessiamo più di tanto, continuiamo così e continuiamo soprattutto a essere felici di quello che l'editoria di grande distribuzione pubblica e appunto distribuisce negli scaffali e questo quindi renderà tutti quanti lieti e contenti.